Benvenuti ad un nuovo episodio di Scienze in Pillole. In questo video andremo a vedere insieme gli effetti collaterali dell'uso dei farmaci per abbassare il colesterolo, conosciuti con il nome di statine. Innanzitutto, cosa sono le statine? Le statine sono farmaci utilizzati per abbassare o ridurre i livelli di colesterolo nel sangue. Per rendere i più facilmente riconoscibili, hanno tutti il suo fisso statina nel loro nome. Un esempio è la torvastatina, un altro è la simvastatina e un altro ancora è la rosovastatina. Il loro meccanismo d'azione è quello di bloccare la sintesi del colesterolo attraverso l'inibizione dell'enzima HMG-CoA reduttasi. Se questo enzima è bloccato, la sintesi del colesterolo è ostacolata. Anche se ci sono vari passaggi enzimatici tra l'HMG-CoA reduttasi e il colesterolo, questo è un passaggio illimitante che regola la velocità della sintesi del colesterolo. Quindi, se le statine riescono a legarsi a questo enzima impediscono la produzione e la sintesi di colesterolo. Tuttavia, le statine possono causare una serie di effetti collaterali, sia lievi che gravi, che discuteremo nei prossimi minuti. Prima ci soffermeremo su alcune caratteristiche dei pazienti che possono aumentare il rischio dell'insorgenza di questi effetti collaterali. La prima caratteristica è il genere. Infatti, gli individui di sesso femminile sono più predisposti a presentare gli effetti collaterali delle statine. Inoltre, i pazienti anziani, soprattutto con più di 80 anni di età, sono a rischio aumentato, così come avere determinate condizioni cliniche. Queste includono malattie renali, malattie epatiche e ipoeterodismo o una tiroide poco funzionante. Infine, anche un consumo elevato di alcol è un altro fattore di rischio. Ora parliamo degli effetti collaterali delle statine. Uno dei principali effetti collaterali è il dolore muscolare, diviso in mialgia o miopatia. La mialgia è intesa come il solo dolore muscolare, mentre la miopatia è considerata come il danneggiamento della muscolatura volontaria. Il dolore muscolare è un effetto collaterale relativamente comune. Può colpire fino al 50% dei pazienti. Più precisamente, in un range dal 20 al 50% dei pazienti presenteranno dolori ai grandi muscoli del corpo, localizzati nella maggior parte dei casi nelle gambe. Questi sintomi possono essere lievi o, in rari casi, possono progredire fino alla rabdomiolisi, una condizione grave caratterizzata dal deterioramento muscolare. La mialgia però è dose dipendente, quindi dosi più elevate aumentano il rischio e la gravità dei sintomi. Il secondo effetto collaterale significativo delle statine è l'epatite, che può causare gravi danni al fegato se non trattata adeguatamente. L'epatite è un termine generico, che indica l'infiammazione del fegato. Questa si manifesta con un aumento dei livelli ematici di specifici enzimi epatici, chiamati transaminasi. Quando il fegato è danneggiato, rilascia questi enzimi nel sangue, dove possono essere rilevati tramite esami del sangue di routine. Sebbene un lieve aumento di questi enzimi possa essere comune e non necessariamente indicativo di danni epatici significativi, in alcuni casi l'uso delle statine può provocare un'infiammazione più grave del fegato, nota come epatite da statine. Nei pazienti affetti da epatite da statine, si possono manifestare sintomi come dolore o sensibilità nell'area dell'angolo superiore destro dell'addome, che corrisponde a una grande porzione del fegato. Ma campanelli d'allarme possono essere anche l'affaticamento, la debolezza generale, la perdita di appetito, la nausea o il vomito. Nei casi più gravi, l'epatite da statine può causare danni significativi al fegato, portando a sintomi come ittero, che si manifesta con l'ingialimento della pelle e degli occhi. Un altro effetto collaterale comune segnalato con l'uso delle statine è il mal di testa. Il meccanismo esatto attraverso il quale le statine causano il mal di testa non è completamente compreso, tuttavia ci sono diverse ipotesi su come questo possa accadere. Innanzitutto la vasocostrizione. Le statine possono influenzare la regolazione del tono vascolare, causando vasocostrizione o ristringimento dei vasi sanguini. Questo ristringimento può ridurre il flusso sanguigno al cervello, causando mal di testa. Inoltre le statine possono ridurre i livelli di coenzima Q10, un antiescedante coinvolto nel metabolismo energetico delle cellule. Bassi livelli di coenzima Q10 possono influenzare la funzione mitocondriale e aumentare il rischio di mal di testa. Paradossalmente ci sono prove che l'uso di statine in combinazione con la supplementazione di vitamina D possa invece ridurre il rischio di mal di testa e di micrani gravi. Questo suggerisce che, sebbene le statine possono causare mal di testa o emicranie, in alcuni casi l'aggiunta di vitamina D potrebbe mitigare questi sintomi. Tuttavia, è importante notare che la relazione tra statine, mal di testa e vitamina D non è ancora completamente compresa e ulteriori ricerche sono necessarie per confermare questi effetti e comprenderne meglio i meccanismi coinvolti. Un altro effetto collaterale comune delle statine è la stanchezza, che potrebbe essere correlata alla debolezza muscolare. Infatti, la mialgia e la miopatia comunemente associate alle statine possono causare una sensazione di dibolezza muscolare, che, a sua volta, contribuisce alla sensazione di stanchezza. Pertanto la stanchezza è uno dei frequenti effetti collaterali dell'uso delle statine. Un altro effetto collaterale delle statine riguarda la memoria. Sebbene sia considerato raro, è possibile sperimentare una riduzione della memoria o persino la perdita delle memorie con l'uso di queste sostanze. In alcuni casi potrebbero insorgere problemi cognitivi durante il trattamento con le statine. Tuttavia, è interessante notare che questi sintomi tendono a risolversi quando si interrompe l'assunzione delle statine. In altre parole, alcuni pazienti potrebbero sperimentare difficoltà a ricordare eventi specifici mentre assumono le statine, ma questa difficoltà tende a sparire alla sospensione del farmaco. Un ulteriore effetto collaterale potenzialmente legato all'uso delle statine riguarda i disturbi del sonno. Sebbene questo effetto sia considerato improbabile, alcuni studi suggeriscono che le statine, in particolare la simvastatina e l'atorvastatina, possano causare problemi di insonnia. Si ipotizza che la maggiore solubilità di queste statine nei grassi possa facilitare il passaggio attraverso la barriera ematoencefalica, influenzando così il sonno. Tuttavia, è importante notare che questi disturbi del sonno sono rari e non sono supportati da prove solide. Altri effetti collaterali importanti che le statine possono causare includono un aumento dei livelli di zucchero nel sangue e la possibilità di insorgenza di diabete di tipo 2. Il diabete di tipo 2 è una condizione in cui il corpo diventa resistente all'insulina o non produce abbastanza insulina per mantenere i livelli di glucosio nel sangue sotto controllo. Il meccanismo esatto di come le statine possono influenzare il metabolismo del glucosio non è completamente compreso, ma si ipotizza che possa coinvolgere l'interferenza con la sensibilità all'insulina o con la produzione di glucosio nel fegato. Questo effetto è stato osservato soprattutto nei pazienti che sono già a rischio di sviluppare il diabete, come quelli con una storia familiare della malattia, pazienti in sovrappeso o con livelli elevati di zucchero nel sangue. Non tutti coloro che assumono statine però svilupperanno il diabete di tipo 2. Tuttavia, è importante monitorare da vicino i livelli di glucosio nel sangue durante il trattamento e discutere eventuali preoccupazioni con il medico curante. In casi molto rari, le statine possono causare trombocitopenia, una condizione caratterizzata da una bassa conta piastrinica nel sangue. Sebbene sia considerato un effetto collaterale poco frequente, ci sono stati alcuni rapporti di casi di trombocitopenia severa associati soprattutto all'uso della torvastatina. Tuttavia, è importante sottolineare che questo è un evento estremamente raro. Un altro possibile effetto collaterale delle statine è la perdita di capelli. Anche se si tratta di un evento molto raro, si stima che colpisca circa l'1% dei pazienti che assumono questa classe di farmaci. Questo effetto collaterale potrebbe verificarsi con qualsiasi tipo di statine e, sebbene poco comune, è importante tenerlo presente quando si valuta il trattamento con questi farmaci. E con questo è tutto. Se ti è piaciuto il video, lascia un like ed iscriviti al canale. Grazie dell'attenzione e al prossimo video! Grazie a tutti!